il demone è qui non posso ancora servirmi devo aspettare per usare quell'abilità rivedi il tuo proposito non lo farò la mia volontà vacilla non lo farò non lo farò non lo farò Sì, sì, sì. posso ancora servirmi non ho abbastanza spirito non è ancora il momento Forse no